ciao ragazzi bentrovati vero piacere per me ricondividere con voi quel momento eccezionale indimenticabile della mia carriera della mia vita e ovviamente della storia della calico di momenti belli in quella partita ce ne sono stati tanti l'affluenza del pubblico il palazzetto strapieno gente super affettuosa che ci ha seguito per tutta la stagione però i due momenti clou sono stati sicuramente il muro di michele de giorgi su cristian lirutti sul 14 12 per loro e ovviamente il muro decisivo di di tommy che ci ha portato alla storica promozione in a1 stato un anno indimenticabile dei momenti meravigliosi che porterò sempre con me forza calico un abbraccio a tutti ciao